Bene, quindi scopriamo insieme quali sono gli oli essenziali che possono aiutarci nella gestione dello stress e soprattutto a migliorare la qualità del sonno, che sappiamo essere una delle cose più importanti a cui non diamo quasi mai la giusta importanza perché è durante la notte che il nostro corpo si ripara. Quindi se dormiamo poco o male ovviamente il nostro corpo è come se si svegliasse il giorno dopo con gli arretrati. Quindi è stato proprio scientificamente testato che iniziamo la giornata con un lavoro in più del 25%, cioè tutto quello che doveva essere riparato e sistemato durante la notte, iniziamo la giornata con il 25% in più di cose da sistemare a livello proprio dell'organismo. Durante la notte il nostro tessuto muscolare si rigenera, così come si supporta il sistema immunitario, quindi è sicuramente una fase della giornata a cui non pensiamo spesso ma di fondamentale importanza. E quindi saluto Elisabetta, Cristina, Stefania, Simona, Manuela, Anna, Grace, Marta, Caterina, Alice, Maria Cristina, Rita, Manu, tutte le persone che sono collegate, Lucia, Roberta, fantastico, quindi vi invito a supportarci facendo magari delle foto, se vi piacciono alcune particolari slide, ricondividendole sui social e taggando Biologa Cristina che è il mio account e ricondividerò anche le altre ragazze. Per chi mi conosce sa che prima di iniziare a collaborare con Doterra e occuparmi esclusivamente di aromaterapia, facevo la trottola per l'Italia. Mi occupavo di sicurezza e igiene degli alimenti e all'incirca facevo 350 km al giorno perché gestivo oltre 260 aziende nel settore alimentare su più di 5 regioni e qui potete vedere quella che era proprio la mia mappa dei percorsi che io mi facevo per i sopralluoghi e potete immaginare che comunque uscire la mattina in auto tutti quei chilometri, la prima azienda, la seconda, la terza e così via, tornare a casa, redigere documenti e tutto il resto era un lavoro veramente stressante. Quindi sapete già che abbiamo iniziato parlando degli oli essenziali che mi hanno sopportato nella gestione del mio mal di testa e delle mie micranie, quindi volevo presentare quelli che sono gli oli essenziali che mi hanno sopportato nella gestione dello stress, della stanchezza. Ho sempre dormito comunque bene di notte e diciamo che mi sentivo un po' così. Sono un po' stanchino. Sì, un po' stanchina. Mi sentivo abbastanza stanca, quindi tornavo a casa, non riuscivo nemmeno a fare le cose più semplici. Non so se ti è mai capitato di tornare a casa e non avere nemmeno l'energia di premere il pulsante della lavatrice per poter fare il bugato, come se dovessi farlo io. Ero completamente scarica. Finché un giorno io, Grace e altre ragazze siamo state a un evento di formazione scientifica di do Terra dove è stato presentato il Copa Iba, questo straordinario olio essenziale che si ottiene dall'albero della Boswellia che per me è stato come un ricarica batterie. Quello che mi ha colpito di più, lo vedremo tra poco, è come va a lavorare questo olio essenziale e io ne assumevo due gocce sotto la lingua la mattina e due gocce sotto la lingua prima di andare a letto. Quindi la mia vita è rimasta fondamentalmente la stessa, però questo olio essenziale fondamentalmente mi aiutava a non sprecare l'energia durante la giornata, a inizio giornata ed arrivare estremata, ma mi ha aiutato fondamentalmente a calibrarla. Non so se sono riuscita a spiegarmi, però fondamentalmente mi aiutava a diluire le mie risorse durante la giornata per evitare di arrivare a casa con lo stremo delle forze. Quindi per me il Copa Iba è stata una grande rivelazione, è un olio a cui sono molto legata e che vedremo tra poco come lavora a livello proprio biochimico. Però è necessario, in questo caso, visto che ho una zoom introduttiva al mondo degli oli essenziali, spiegare brevemente cosa sono. Sono il concentrato pluripotente della pianta afficinale e ha come funzione quella di garantire la sopravvivenza delle piante. Quindi le piante producono oli essenziali per attrarre gli insetti impollinatori, per repellere quelli poco utili o dannosi, o magari anche per cicatrizzare le ferite e molto altro. Gli oli essenziali sono appunto il concentrato della pianta e pensate che una goccia di oli essenziale equivale a 28 tazze del suo estratto secco. Quindi, sebbene oggi parliamo di alcuni oli per la gestione dello stress e per migliorare il sonno, alcuni dicono spesso di averne bisogno a barilate, in realtà bastano poche gocce. Con una goccia potete vedere come possiamo ottenere veramente tanto in termini di generosità. Quindi una goccia di oli essenziali di menta piperita apporta gli stessi benefici che otterremo bevendo 28 tazze del suo estratto secco. E una cosa straordinaria degli oli essenziali è che sono veramente veloci nella loro azione. Quindi in 20 secondi abbiamo il primo contatto con le molecole olfattive e i neuroni olfattivi. Dopo due minuti le molecole arrivano al torrente sanguigno e in 20 minuti riescono a raggiungere ogni cellula del nostro corpo. Pertanto è indispensabile introdurre quelle che sono le modalità d'uso degli oli essenziali a livello olfattivo, ovvero annusando direttamente dal flaconcino, è un ottimo modo per utilizzare gli oli a livello olfattivo, oppure tramite l'utilizzo di un aroma diffusore a freddo, che ci permette non solo di andare a lavorare sulle emozioni, ma di avere anche un'azione disinfettante ambientale. Infatti è stato dimostrato che la diffusione di alcuni oli essenziali è in grado di ridurre la carica batterica ambientale. Quindi se lavorate in un ufficio o a contatto col pubblico, oppure a scuola, in delle aule, potete sicuramente diffondere gli oli essenziali sia per mantenere attiva la concentrazione e quindi bere meno caffè, per essere più lucidi grazie agli oli essenziali, e anche per disinfettare l'ambiente, visto che oggi sempre più abbiamo raggiunto questa sensibilità nell'igiene ambientale. L'uso transdermico è quando usiamo gli oli essenziali sulla pelle e ci rivolgiamo a questa modalità d'uso, che è quella più veloce. In 30 secondi gli oli arrivano nei capillari e vengono distribuiti nel torrente sanguigno e possiamo utilizzare l'olio frazionato di cocco per far sì che l'olio abbia un'azione locale. La maggior parte degli oli essenziali raggiungono una discreta popolarità per il loro potere anti-età, quindi sicuramente quando noi ci massaggiamo gli oli essenziali sul viso è anche un ottimo modo per sentirne e captarne l'umore. La terza modalità è l'utilizzo per ingestione, ovvero orale, quindi possiamo usare gli oli essenziali, metterne delle gocce all'interno dell'acqua da bere, magari in un contenitore che non sia di plastica, comunque una plastica particolarmente dura, di cui parleremo più avanti, e possiamo bere. Queste sono le tre modalità di utilizzo. Quindi quando parliamo di ingestione degli oli essenziali dobbiamo stare attenti alla qualità. Gli oli di cui parliamo questa sera vengono distribuiti da Doterra, che è una cooperativa che lavora in 44 paesi nel mondo, e questi sono tutti i test che vengono fatti su ogni singolo campioncino, su ogni singolo flacone di oli essenziale. Quindi da test chimici, fisici, microbiologici, per garantirci la qualità formato oli essenziale, perché ora c'è una moda incredibile, tutti parlano di oli essenziali, ma spesso sono adulterati. Più del 90% degli oli presenti in commercio presentano una qualche forma di contaminazione o adulterazione. L'adulterazione è quando si mixano più oli essenziali, ad esempio oggi abbiamo parlato di olio di rosa con Federica Lesecarte, è uno degli oli più adulterati, perché è molto prezioso e in alcuni casi viene quasi riprodotto, o solo olfattivamente, mixando la citronella con il geranio, perché alcuni componenti sono comuni. Questa è una forma di adulterazione, quando io mischio più sostanze per ottenerne una, che in realtà non è, perché comunque la chimica della rosa è molto più complessa, però per farvi capire quanti sono i metodi di adulterazione, oltre al fatto di aggiungere e diluire sostanze. La qualità, in termini di trasparenza endoterra, va molto oltre rispetto a quella che è semplicemente la chimica, ma è una purezza che parte dalla sostenibilità, sostenibilità sia dell'ambiente che delle persone che si prendono cura delle piante che saranno destinate alla produzione degli oli essenziali. Quindi fondamentalmente, insieme a Doterra, creiamo opportunità alla ricerca della purezza, che è la parola chiave, in termini di chimica, di sostenibilità, di ambiente e di comunità. Arriviamo al nostro programma per migliorare la qualità del sonno. Invece che proporvi l'elenco dei singoli oli da poter utilizzare, vi ha voluto mostrare proprio una sorta di programmino, come quella che potrebbe essere una routine per il mantenimento e il miglioramento della qualità del sonno. Quindi il copaiba lo vedremo tra poco perché possiamo assumerne due gocce nell'acqua da bere o direttamente sotto la lingua perché è molto delicato, perché va a supportare il sistema endocrino e il sistema immunitario. Perché è importante questo? Perché quando noi siamo sottoposti a forte stress in modo particolare i protagonisti diventano le ghiandole surrenali che producono il cortisolo, l'ormone dello stress e l'ipofisi e l'ipotalamo. E quando siamo in una situazione di presunto stress, questo cortisolo pone il nostro organismo nelle condizioni fisiologiche di massima allerta. Quindi se io devo attuare quel meccanismo di sopravvivenza rivolto all'allerta, è ovvio che non riuscirò a dormire sonni molto tranquilli perché dovrò essere vigile e attento per far fronte a quelle che sono le eventuali minacce. Il nostro corpo produce cortisolo quando siamo particolarmente stressati o quando veniamo sottoposti a stimoli stressanti come una classica notifica del cellulare che può allarmarci, una telefonata o se magari siamo in auto e accidentalmente un gatto magari ci attraversa la strada e non eravamo pronti, il problema è che il nostro organismo impiega quattro ore a smaltire i livelli di cortisolo ed è per questo che un ottimo supporto durante la giornata può essere il wild orange. Il wild orange è stato dimostrato essere un olio essenziale in grado di ridurre tempestivamente i livelli di cortisolo nel sangue quindi come preparazione a un sonno riposante possiamo iniziare la mattinata con il copaiba e continuare mettendo in diffusione il wild orange o anche qui lo possiamo aggiungere ai piatti, alle ricette per insaporire e aumentare il gusto dei nostri piatti. Prima di coericarsi a letto parliamo di circa una trentina di minuti prima di mettersi a letto possiamo utilizzare due gocce di tangerine ovvero di mandarino da bere con una bella tazza di acqua tiepida o anche qui come preferite possiamo fare un massaggio sotto la pianta dei piedi annusarlo dalle mani ed è un olio essenziale che ci aiuta proprio a staccare la spina dalle situazioni fortemente stressogene quindi quando siamo carichi operati di lavoro questo è sicuramente un olio che io userò stasera anche se non avendo problemi di insonnia penso che stasera come trovo il letto crollo proprio però a volte siamo talmente stanchi che è difficile anche prendere sonno in alcuni casi a me è successo quindi il mandarino il tangerine è sicuramente un olio essenziale specifico per questo è utile anche per i bambini iperattivi è uno di quegli oli sicuri da utilizzare anche nei primi mesi dell'infanzia quindi mandarino tutta la vita per i casi di iperattività agitazione insonnia da stress e così via se invece l'insonnia è causata da situazioni stressanti diciamo che ci logorano da più tempo possiamo sostituire il tangerine con il pettigrain il pettigrain è l'olio essenziale che si ottiene dalle foglie di arancio è un olio molto forte cioè forte dipende per me è fortissimo dipende anche dai gusti però è un olio diciamo al pari della lavanda possiamo dire che sono quasi fratelli e ha un'azione calmante ha un forte contenuto di acetilidololo e quindi è un olio che possiamo appunto usare quando invece lo stress ha origini più antiche semplicemente sostituendolo e poi possiamo fare un massaggio al viso con una goccia di copaiba e una goccia di lavanda quindi qui vi devo raccontare un aneddoto perché quando io facevo la trottola per l'Italia come vi ho fatto vedere nelle slide andavo anche a fare dei corsi di formazione dove dovevo parlare per dieci ore di normative quindi ora parliamo di oli e va bene in alcuni casi per la sicurezza alimentare parlando di quelli che sono le leggi europee per il rispetto della salute pubblica facevo corsi di ore in cui parlavo di questi aspetti noiosissimi e un giorno ero particolarmente agitata non mi ricordo se era uno dei miei primi corsi io vivevo ad Ascoli quando eravamo in Italia e il corso era a Senigallia io ero particolarmente agitata cosa ho fatto ho preso una goccia di copaiba una goccia di lavanda mi ci sono fatta proprio un bagno aromatico nel senso che respiravo profondamente vi dico che è stato veramente difficilissimo a rimanere sveglia in auto dopo questa combo quindi non usatelo la guida miscela una goccia di lavanda non è copaiba bensì nel letto quindi vi assicuro che è veramente potente io ero appena svegliata agitatissima quindi adrenalina a palla cortisola questa combo copaiba lavanda vi ripeto ho fatto veramente molta difficoltà ad arrivare a Senigallia con gli occhi aperti quindi lì poi mi sono fatta un bagno di menta piperita altri oli che mi aiutassero a rimanere sveglia e concentrata però ecco copaiba e lavanda è una combo veramente super per conciliare il sonno e essere più rilassati gli oli essenziali hanno una caratteristica essendo dei composti naturali che possono indurre quello che viene definito effetto paradosso qualcuno ne ha mai sentito parlare no ok è una soglia fondamentalmente quindi non ho potuto mettere il grafico però è una soglia dove tendendo il nostro sistema nervoso autonomo a rilassarci quindi al rilassamento ci rilassiamo al punto tale che il nostro sistema nervoso autonomo entra in protezione e quindi ci fa stare più più elettrizzati più energici più più vivaci a volte potrebbe dare anche delle palpitazioni è un evento molto raro però può succedere quindi se dovesse succedere con la combinazione copaiba lavanda o altre routine o altri abbinamenti di questa routine state tranquilli perché è solo il primo impatto cioè ripetendo magari conoscendo la risposta del nostro organismo ripetendo l'utilizzo degli stessi oli con una maggiore diluizione quindi con un quantitativo inferiore possiamo tranquillamente continuare ad utilizzarli a me è successo in modo particolare con il tanaceto blu che è un olio essenziale che ho conosciuto insieme al copaiba il copaiba mi è piaciuto per la sua biochimica il tanaceto blu lo volevo provare mi piaceva per il fatto che comunque era blu e quindi quando eravamo a questo evento di terra di formazione me ne sono messa una goccia sul polso quindi ho tosto polso blu il polso è uno dei punti di massimo assorbimento in un attimo il cuore che succede quindi anche qui il tanaceto blu è un olio essenziale molto calmante però in alcune persone particolarmente sensibili potrebbe indurre l'organismo a quello che è l'effetto paradosso quindi una leggera agitazione per qualche minuto non è una situazione che protrae nel tempo però ci aiuta a individuare che l'olio va usato in maniera graduale quello specifico olio poi dopo dopo questo approccio io ho acquistato un cofanetto con tutti gli oli essenziali che erano stati presentati durante quell'evento quindi c'era il copaiba c'era il tanaceto blu c'era la rosa la prima volta che è stata lanciata la rosa perché doTERRA prima di mettere in commercio dei prodotti fa sì che la loro produzione sia sostenibile e non abbia un impatto negativo per l'ambiente quindi a volte se chiedete oli particolari e non sono presenti nel catalogo è perché evidentemente la loro produzione non ha un impatto sostenibile quindi all'epoca avevamo appena conosciuto la rosa quindi c'era tutto questo cofanetto di oli e quindi ho iniziato ad usare il tanaceto blu addirittura lo usavo proprio per fare dei massaggi alla pelle cioè facevo proprio una goccia di tanaceto blu l'applicavo sul viso e non ho mai più riavuto eventi con effetti paradosso quindi generalmente è solo il primo approccio dove il nostro corpo va in protezione ci fa capire che quell'olio per noi va usato diluito per il primo periodo e poi il tempo di abituarsi ci dà i benefici sperati quindi una goccia di copaiba una goccia di lavanda vi sorprenderete dell'effetto rilassante è conciliante e abbellisce la pelle quindi uniamo l'utile al direttevole un consiglio è quello magari di fare due o tre volte a settimana quelli che vengono definiti bagni aromatici ovvero prendere un pugnetto di sale aggiungere magari qualche goccia di olio vettore e aggiungere gli oli essenziali in base a quello di cui abbiamo bisogno quindi per conciliare il sonno e migliorare la qualità del riposo possiamo usare la lavanda il copaiba il gualdorange tutto quello che desiderate quando usiamo gli agrumi per i bagni aromatici è preferibile non esporsi al sole quindi magari è preferibile farli la sera in modo che l'indomani non corriamo il rischio di incorrere in quello che è un effetto di fotosensibilizzazione perché ricordiamoci che gli agrumi gli oli essenziali hanno l'effetto di potenziare i raggi solari e quindi se mettiamo una goccia di olio essenziale sulla pelle e poi ci esponiamo al sole i raggi vengono amplificati e quindi potremmo arrossarci la pelle quindi gli agrumi sulla pelle sempre dopo il tramonto ci siamo fino a qui ora cercherò di mostrarvi perché mi sono innamorata del copaiba quando il dottor Hill ci presentò questo olio essenziale perché è contenuto per il 60% di un principio che si chiama beta cariofillene che è un cannabinoide naturale quindi spesso sentiamo parlare di cannabinoidi relativamente alla cannabis da cui ha origine questo termine che agisce sia sul sistema nervoso periferico che centrale il beta carioquillene è un cannabinoide che interagisce solamente con i recettori del sistema endocannabinoide del sistema periferico ed endocrino quindi oltre al sistema circolatorio respiratorio locomotore il nostro organismo è dotato anche di quello che è un sistema di recettori cellulari che si chiama sistema endocannabinoide e ha una funzione importantissima quella di regolare l'umore il controllo della forma fisica la funzione immunitaria la riproduzione e la fertilità la sensazione di piacere e quella di dolore la memoria la regolazione della temperatura e i cicli circadiani quindi è sicuramente un olio essenziale in grado di andare a regolarizzare il ritmo dei nostri cicli circadiani ovvero il ciclo di veglia e sonno abbiamo imparato a conoscere quest'olio qualche martedì fa quando vi ho parlato della grande differenza che quest'olio ha fatto per me per la gestione del mal di testa quindi parliamo di emicranie e quindi gestione del dolore e del fatto che la scienza ha dimostrato come quest'olio essenziale è di ottimo supporto per le malattie infiammatorie e dei mielinizzanti quindi sicuramente è un olio di cui potremo parlare per giorni su youtube ho anche caricato una zoom in cui parlo oddio va toccato di cui parlo solamente del Copa Iba che potete comunque andare a vedere eccoci qua e ho voluto condividere con voi anche il messaggio di Maria Maria Lai che per chi magari è all'inizio ma in realtà è uno strumento che utilizziamo anche noi che già conosciamo gli oli da diversi anni abbiamo creato un canale telegram che è un vero e proprio forum dove poter chiedere quali oli usare in che modalità ma anche per condividere esperienze quindi ho voluto riportare il feedback di Maria Lai che dice vorrei condividere con voi una benissima esperienza mio cugino da tempo ha problemi di insonnia gli ho preparato una miscela da massaggiare su petto e cuore collo seni paranasali composta da olio di cocco lavanda incenso legno di cedro e eucalipto quando dopo due giorni gli ho chiesto come fosse andata mi ha risposto una figata è finalmente riuscito a dormire con un sonno profondo non riusciva a dormire così neanche con la melatonina quindi questo è semplicemente un feedback che ho voluto riportare tra tanti e una volta che sarete comunque nel canale telegram vi sarà sufficiente ricercare per parola chiave io cosa ho fatto sono entrata nel gruppo telegram ho scritto insonnia e tra tutti i messaggi ho voluto riportare quello di Maria che non so se è presente gliel'avevo chiesto ma mi sa che era troppo tardi se volesse entrare infatti non c'è però comunque potete comunque chiederle sul telegram perché ha usato questi oli piuttosto che altri io volevo comunque fargli questa domanda e un po' me lo immagino perché comunque sono gli stessi oli e beh la lavanda l'abbiamo conosciuta adesso la rinomineremo magari sono gli oli che aveva a disposizione o comunque è una formula che si avvicina parecchio a quella che è una formulazione che Doterra ha chiamato serenity ovvero la miscela della serenità che è disponibile sia in versione flaconcino quindi olio essenziale e dentro troviamo una lavanda il legno di cedro il legno di oil il vetivè e altri oli essenziali che non ricordo a memoria che la possiamo quindi diffondere nel aroma diffusore la possiamo applicare sulla pelle e la possiamo ingerire sotto forma di soft gel quindi non vi consiglio di creare le soft gel con l'olio essenziale di serenity ma di ricorrere eventualmente alle capsule che sono già formulate perché all'interno hanno olio essenziale di lavanda e solamente olio essenziale di lavanda poi la L-teanina il balsamo di limone il fiore della passione e la camomilla quindi degli estratti naturali la L-teanina e l'olio essenziale di lavanda qualche tempo fa quando ero dei miei genitori in Italia magari ho sentito in tv parlare di un prodotto farmaceutico per dormire che adesso mi sfugge il nome che contiene olio essenziale di lavanda non so se qualcuno lo conosce Lilla qualcosa del genere Laila Laila l'olio essenziale di lavanda eh mi ricordavo qualcosa del genere e ne ho provato un campioncino cioè per curiosità me l'hanno dato in farmacia assurdo no ma lì ci sono talmente le percentuali minime che lo sappiamo però non è detto però ecco ci sono tanti fattori sicuramente la qualità fa tanto e quello che abbiamo scoperto nel tempo è che non è solo la qualità chimica che rende un olio efficace ma anche la qualità in termini di produzione e di sostenibilità perché come abbiamo sempre spiegato il modo in cui le piante vengono raccolte distillate non è solamente una questione di tecnica ma è anche una questione di gratitudine l'impatto che ha Doterra sulla qualità di vita delle persone fa sì secondo me che tutte le fasi della produzione io ho avuto modo di vedere solo dalla distillazione in poi perché Doterra mi ha avuto modo di farmi conoscere la distilleria della lavanda e ho conosciuto dei professionisti straordinari e che mi hanno fatto emozionare con annusando l'incenso appena distillato bellissimo e quindi secondo me è tutto quello che ha un impatto sì oggi siamo qui a parlare di chimica ma anche l'energia che viene messa l'intento in tutta la filiera di Doterra fa sì che questi oli siano veramente straordinari ve ne potrete accorgere usandoli leggendo su Telegram quelle che sono le nostre esperienze quindi le esperienze di ognuno di noi e quindi io do il benvenuto a tutte quelle che sono le persone che oggi si stanno avvicinando al mondo degli oli perché potranno fare la differenza non solo nella propria vita ma nella vita anche delle persone che ci sono vicine perché poi diventa naturale esprimere la propria esperienza anche a chi magari c'è intorno quindi se state vedendo questo video e conoscete magari qualcuno che ha difficoltà con la regolazione del sonno e la gestione dello stress condividetelo e fate conoscere questo mondo bellissimo dell'aromaterapia che stiamo riscomprendo e che può fare veramente tanto un piccolo gesto che veramente può fare tanto e tornando agli studi vi avevo accennato prima della lavanda che è in grado comunque di avere un effetto sulle emozioni oltre a quell'integratore che già utilizzava l'essenza di lavanda abbiamo conosciuto il serenity che è straordinario e per chi parla di effetto placebo sul serenity abbiamo l'esperienza di un cagnolino iperattivo a cui è stata messa una goccia di serenity su indicazione ma diciamo che doveva essere perfezionata diciamo che la persona ha ricevuto il serenity e l'ha usato subito sul cane senza chiedere come usarlo alla sua referente e il cagnolino ha iniziato a leccarsi e dopo un po' si è accasciato riposando e da lì poi è andato lui alla ricerca dell'olio essenziale che evidentemente gli dava ha una sensazione di benessere quindi per sfatare anche l'effetto placebo degli oli essenziali e dal punto di vista scientifico vi ho voluto condividere questo articolo che io ho ricevuto come ricevo puntualmente la rivista dedicata pubblicata dall'ordine nazionale dei biologi in cui un esperimento ha dimostrato come l'effetto olfattivo dell'olio essenziale della lavanda è paragonabile al valium cioè l'effetto appunto distensivo e calmante è paragonabile a quello di questo farmaco ovviamente esclusi gli effetti collaterali fondamentalmente quindi è una virtù straordinaria scoprire che la natura ci presenta veramente tutto e quindi è indispensabile conoscere quindi il nostro obiettivo con queste zoom è quello di far conoscere che delle alternative esistono perché solo quando io so posso prendere realmente una decisione quindi in questo studio che potete screenshotare e leggere anche in un secondo momento praticamente è stato dimostrato come l'odore della lavanda ha un effetto rilassante quindi in antichità veniva usato proprio mettere dei mazzetti di lavanda all'interno dei cappelli per distendere la tensione e il mal di testa ne abbiamo parlato anche qualche martedì fa per la gestione delle micranie e quindi vediamo come la lavanda è uno di quegli oli da avere in casa meglio se soprattutto indispensabile la qualità perché tanti parlano di oli essenziali ma in pochi riescono a farli in trasparenza e nel modo giusto pensate che anche semplicemente le temperature di distillazione hanno un impatto sulla qualità quindi un giorno ho incontrato un signore veramente straordinario che fa tutto in casa ah sì anch'io mi faccio il cipresso in casa e lui ho fatto bene quante ore di distillazione mi fai fare due dentro di me ho pensato peccato che i principi del cipresso arrivano all'ottava ora di distillazione quindi si perde tutto il potere fitochimico di quell'olio essenziale però è bello anche comunque autoprodursi peccato gli oli peccato che non tutti possono farlo e magari il risultato non è proprio quello ottimale ma sì possiamo averne il profumo assolutamente quello sì e in conclusione prima di arrivare alle domande se ci sono avrei voluto approfondire un po' di più l'aspetto emozionale però non ce l'avremmo fatta con i tempi quindi vi invito a andare a vedere quello che è il percorso emozionale in sei step che potete trovare all'interno del mio canale youtube se avete difficoltà a trovarlo chiedete al vostro referente che ve lo invierà tranquillamente ed è un vero e proprio percorso emozionale in sei step partendo da forgive la miscela del perdono fino ad arrivare a passion che è la miscela della passione se state avendo la registrazione potete fare un scanalizzare il QR code e vi invierò personalmente la registrazione e come ogni martedì chiudiamo con una breve considerazione di quello che è il cielo del momento perché una delle mie grandi curiosità è sempre stata quella di studiare le stelle e i pianeti e sono rimasta percevolmente sorpresa nel vedere come sin dall'antichità quando non si avevano tante attrezzature per poter prendersi cura di sé gli uomini fondamentalmente guardavano la posizione dei pianeti per individuare i momenti migliori per il raccolto per le fermentazioni per la produzione del pane eccetera eccetera ma anche i momenti migliori per iniziare quelle che sono le pratiche di benessere e per prendersi cura di sé quindi il cielo di oggi ci parla di un sole congiunto alla luna quindi siamo in un periodo di luna nuova e oggi il sole è entrato nella costellazione dell'ariete vuol dire che per una visione geocentrica se dalla terra osserviamo il sole dietro è impossibile vederla però siamo consapevoli del fatto che c'è la costellazione dell'ariete quindi tutte le persone che nascono da qui in poi nascono sotto il segno dell'ariete e l'ariete così come la luna nuova rappresentano l'inizio in assoluto cioè la fusione del principio quindi in luna nuova io ho detto luna piena vero? tutte queste volte ti siamo detto luna piena? no luna nuova ok poi dopo non lo so sì volevo dire luna nuova quindi la fusione del sole con la luna è la luna nuova quindi al principio quindi durante la luna nuova si depongono i semi che avranno che hanno dentro di sé il potenziale quindi oggi più che mai è il giorno per deporre un seme che ha un potenziale che si manifesterà il tempo quindi se abbiamo un intento stiamo progettando un qualcosa se vogliamo lavorare sul nostro benessere questo sicuramente è il momento migliore per iniziare a deporre questo seme e come già avete intuito nelle zoom precedenti è possibile ricevere quella che è una consulenza astrologica con il calcolo dei propri elementi e individuare quelli che sono gli elementi da armonizzare e quindi gli oli essenziali che possono essere in grado di supportare determinati organismi del nostro nel nostro nel nostro corpo con una visione veramente molto antica vi ho spiegato che le mie origini sono a scolane e il nostro professore di chimica a scuola ci faceva studiare sul libro scritto nel 1300 da Cecco D'Ascoli che fu appunto Francesco Stabili un professore di medicina medico del papa e anche lui guardava un po' le stelle per individuare le terapie migliori da apportare grazie alle piante e noi possiamo farlo grazie agli oli essenziali quindi tramite la vostra consulenza astrale riceverete l'analisi dei vostri elementi dominanti e quelli da armonizzare gli oli da poter utilizzare le parti del corpo in cui applicarli a seconda dei singoli pianeti del vostro cielo di nascita e il periodo ottimale per iniziare il trattamento se vi state chiedendo come è possibile ricevere la propria consulenza astrologica per tutte le persone che stanno avendo il video potranno averla a un prezzo diciamo scontato di 25 euro invece che 40 e che comprende una consulenza uno a uno cioè in zoom per vedere insieme tutti gli aspetti che rimarrà registrata per voi e quindi avrete la registrazione del nostro incontro e il pdf da poter rivedere anche nel tempo per le persone che decideranno di diventare clienti o che sono già clienti e quindi ci sostengono attivamente promuovendo la propria benessere e quindi sostenendo anche il nostro lavoro è possibile avere la consulenza astrologica a 15 euro e anche qui se siete curiosi di toccare con mano i benefici degli oli do terra il modo migliore è quella di scegliere uno dei cofanetti convenienza ce ne sono diversi noi ne mostriamo sempre tre che sono quelli più scelti il family contiene 10 oli base da 5 ml il kit aroma touch ne contiene 8 con olio frazionato di cocco e diffusore però contattate la persona che vi ha invitato a questa zoom oppure utilizzate i codici da scannalizzare per poter accedere al carrello e sfogliare tutti i prodotti o la cosa migliore comunque è contattare una persona che vi può aiutare a individuare gli oli più giusti per voi che sia tramite un colloquio che sia tramite la consulenza astrologica sicuramente è il momento migliore per poter abbracciare quello che è il mondo dell'aromaterapia e delle sue proprietà vediamo se ci sono altre domande ricordatevi che a marzo ci sono il regalo per i nuovi clienti Wild Orange Copaiba ed Adaptive quindi vi potremmo spiegare anche come ottenerli il regalo e ci vediamo martedì prossimo sì martedì prossimo forse la data potrebbe variare adesso ve lo comunicheremo domani pomeriggio slittando o a mercoledì o magari a lunedì la possiamo anticipare anzi meglio ancora e vediamo se eventualmente ci sono domande o se magari ci sono dei feedback o se qualcuno vuole condividere con noi qualche esperienza sull'utilizzo degli oli lascio a voi la parola prima di salutarci ciao ehi Barbara io volevo soltanto dare un feedback sul ecco attivo il feedback su una una signora che ho conosciuto un paio di mesi fa e con il quale abbiamo lavorato sui chakra e si parlava del primo e secondo chakra dove abbiamo utilizzato delle miscele di base poi successivamente in privato poi abbiamo utilizzato il lang e l'arancio e questa signora praticamente ha una sua energia un periodo molto molto basso quindi molta stanchezza molta più che stanchezza proprio scarico energetico no e problemi in famiglia si è innamorata dell'ilang ilang e quindi mi ha chiesto subito un po' di informazioni più dettagliate però poi usando la miscele ilang ilang è arancio ha deciso che ha usato per un po' di tempo evidentemente gli ha creato una risposta di benessere e adesso sarà una futura consumatrice di oli essenziali e quindi questo feedback immediato su quello che la risposta sia primis aromatica e poi anche utilizzata come campioncino per dieci giorni quindi volevo semplicemente dare questa piccola testimonianza grazie barba poi mi scuso perché magari non sono riuscita ad avere la chat sott'occhio stasera mi sono dimenticata e stavo leggendo che Salvatore Ida scrive un effetto paradosso mia madre ha avuto l'effetto paradosso molto probabilmente il dip blu quindi ternaceto sì potrebbe essere poi avevo letto anche che Maria Cristina scrive io ho provato Ziquil per curiosità che contiene lavanda ho avuto incubi magari è stata una coincidenza dai allora mentre Salvatore Ida continuano a scrivere sicuramente c'è un altro messaggio che continua allora io sto usando Salvia e Clericalm mi sono accorta che mi aiuta anche sulla distonia perché rilassa e anche a livello cervicale ottimo feedback e a proposito di Salvia distonia cervicale continuo a scrivere quindi magari Ida se vuoi puoi anche attivare il microfono se è più pratico per te però a proposito di Salvia invece a me con la Salvia succede che non riesco a dormire con la Salvia quindi a proposito di sonno è un olio che non riesco ad usare cioè l'ho usato una volta e ho avuto difficoltà a addormentarmi perché comunque è un tonico la maggior parte dei casi e l'altro giorno parlavo invece con una mia amica con Silvia che mi diceva che la lavanda la aiuta a dormire quindi ecco diciamo che a volte c'è bisogno anche di fare dei tentativi per individuare il proprio olio la propria miscela Ida ci scrive che si deve attrezzare perché al momento non ha il microfono guarda a volte bastano anche queste cuffiette del cellulare adesso non mi rendo conto se stai seguendo da un portatile però sono molto pratiche in alcuni casi non so mi sta venendo in mente che la salvia sclarea si lavora anche magari non ha tanto non si riesce subito a fare questa questa associazione però abbiamo imparato che la salvia riesce a sciogliere i muchi quindi probabile anche che le vie respiratorie o sono congestionate e quindi anche in tutto quello che il collo stesso poi rappresenta come connessione con con la parte inferiore col torace e la connessione poi con il sistema cerebrale gli organi di senso è probabile che dia dei benefici in questo senso quindi riesce anche a lavorare sul sistema nervoso lavorando di base su questa funzionalità di sciogliere i muchi mi è venuto spontaneo dirlo grazie il posto di muchi tornando sempre collegati con il tema della serata non abbiamo parlato del fatto di come ci siano alcuni oli che supportano comunque il riposo anche per smettere di russare ad esempio air quindi facilitare il riposo di chi è a fianco di chi russa quindi indirettamente un'ottima miscela è sia l'air quindi la miscela respiratoria da applicare direttamente sui seni nasali e anche zengest che contenendo lo zenzero come dice Barbara anche lui ha come proprietà quella comunque di sciogliere i muchi a volte magari il russamento non lo sappiamo pensiamo sia una questione respiratoria ma in realtà potrebbe dipendere anche dal sistema digerente quindi nel dubbio per le persone che russano è preferibile avere entrambe le miscele quindi provarne una e l'altra e individuare quella che è la formula più giusta ecco noi abbiamo delle linee guida dei libri sugli essenziali che adesso non ho qui a portata di mano però l'ingrediente fondamentale è la fiducia nella natura e la curiosità quindi essere curiosi di sperimentare l'utilizzo degli oli fino a individuare quelli che sono i propri quindi come la mia amica che usa la salvia per dormire farà parte del suo kit quotidiano Salvatore Rita scrive credo sia l'acetato di limonene che possa dare uno scatto potente di riequilibrio al sistema nervoso centrale più che i mucchi quindi parliamo di salvia quindi acetato di linalolo non limonene però io facevo riferimento a una funzionalità a un eccesso a quello che il corpo butta fuori e non riesce poi a eliminare quindi va a congestionare è un altro discorso poi che la salvia abbia l'acetato di limonene adesso linalile si si è corretta poi che è uno dei maggiori costituenti che ritroviamo nella lavanda nella salvia nel bergamotto nel pettigrain quindi è un effetto comunque calmante perfetto io vi ringrazio tutti per essere stati con noi questa sera ricordatevi che nella chiusura della zoom potrete essere reindirizzati a un questionario che ci aiuterà tantissimo a migliorare quindi un attimo che ve la metto anche in chat potrete se volete rispondere alle domande e esprimere anche quelle che sono magari le vostre preferenze sugli oli che abbiamo visto oppure altri stiamo ridendo perché Maurizio Calabrese scrive che sui pomodori in frigo non riescono a dormire perché l'insalata russa Mauri fantastico grazie a tutti grazie a Maurizio anche per averci fatto chiudere la serata in maniera divertente ci vediamo martedì prossimo per parlare di un argomento molto interessante per parlare degli oli essenziali per il controllo della forma fisica visto che ci avviciniamo alla primavera iniziamo a pensare a rimetterci in forma per quelli magari leggeri in estetismi dove gli oli essenziali in realtà hanno un'efficacia veramente straordinaria chiudo un attimo la registrazione e vi faccio vedere delle foto un attimo che non pubblicherà su youtube quindi magari interrompi quindi ciao per tutte le persone che guarderanno la registrazione troverete il link in descrizione a martedì ciao ciao